Musica Principio d'incendio in un alloggio situato al quarto piano di un condominio di via Druento, Veneria Reale, questa sera a lunedì 20 novembre. L'allarme è scattato intorno alle 21. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Veneria Reale, Torino, l'autoscale e la croce verde. A chiamare il numero unico 112 sono stati dei ragazzi, che passando di lì hanno visto le fiamme sul balcone. A prendere fuoco una pianta, con ogni probabilità la causa da ricercarsi in un mozzicone di sigaretta caduto dai piani superiori sulla pianta. I proprietari non erano in casa. I proprietari non erano in casa.